ciao a tutti sono Giorgio bentornati a Giorgio e i sapori del mondo ok sotto con il prossimo andiamo ce ne sono diversi questo sembra ripieno di cioccolata questo è fatto di biscotto integrale più o meno e questo ha dentro di tutto proviamo questo a vederlo sembrerebbe buono ok ora un altro sentiamo com'è devo indovinare da dove vengono credo sia un dolce è stato incredibile ragazzi là fuori è letteralmente pieno di delizie fantastiche sono troppo contenta di aver accettato la sfida di Giorgio e i sapori del mondo ci vediamo ragazzi ciao 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 ciao